Avete paura? Fate bene, perché è l'ora di Neldit Halloween! La sfida di pasticceria in cui torte stupende diventano orrende. Benvenuti alla nostra festa di Halloween. Io sono Nicole Bayer e... Wes! Wes! C'è una donna molto strana. Oh, ma è Mary Mauser, di Cobra Kai. Mary, sei nel programma sbagliato? Scusami, Nicole, mi hanno dato un calcio in testa e ora sono qui. Sono in un sogno. Mangio torte da sogno io piuttosto da incubo. Ma è il mio lavoro. Oggi tre pasticceri amatoriali si sfideranno in delle prove di Halloween ispirate alla celebre serie Netflix, Cobra Kai. In palio ci sono 10.000 donne. Andiamo a incontrare i pasticceri. Certo. Ciao.